Signori, è arrivato! Finalmente un vero Call of Duty! Però ci somiglia, eh? Un vero Call of Duty! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi giochiamo a Call of Duty World War II Va bene, Call of Duty della Seconda Guerra Mondiale Ma prima volevo farvi vedere una piccola cosa che avevo scoperto Qui da qualche parte nascosto c'è un piccolo easter egg Che vorrei farvi vedere, cos'è sta roba? No, niente Eccolo qua, riposo! Eh, io non so quanti di voi lo conoscevano Però qui ci sono un po' di giochini Che lo puoi vedere anche a colori Allora, vabbè Sì, ma tanto non siamo su Call of Duty per giocare con le macchinine Allora, io farei un tutti contro tutti così di riscaldamento Ho cambiato il modo di registrare Quindi speriamo che si veda bene Comunque sto facendo un po' di prove, ecco Allora, eh, questa mappa non mi ricordo Vabbè, facciamo il fucile d'assalto che si adatta un po' a tutte le occasioni Voglio tutti in posizione Voglio tutti morti, ecco il primo Dov'è? Il gatto Guarda, no, ma stavo ricaricando Eccolo, brutto serpente a sonagli che non sei altro Tu sei più serpente di lui Ma guarda te Partita di riscaldamento E la la, si, dai, più comodo Io ci metto e la vetti Orca miseria, me la son vista proprio brutta Corri Cosa sta succedendo? Non ho capito niente Sono ancora vivo Porca miseria Ho l'ecciso con la vetti Guardatelo Come corre, l'avete visto? Ah, cosa fai? Spari e poi nascondi il fucile Eccolo, eccolo Non ho preso Che mira di me Allora, cambiamo fucile Mitraglietta, dai Mitraglietta leggera Col silenziatore, ovviamente Se no qua ci riconoscono tutti E' un risalto E' beh, dove sono? Tipo Stop, è cazzo Oh, è bene Oh, ho preso Cazzo Stare alla finestra Ma come puoi stare alla finestra Cazzo Cos'è? Adesso gli facciamo il bombardamento Mamma mia Guarda quello come bello Libero e disponibile Ecco Pronto per morire E' la peppa Una mira di me Però Ho sentito Mi è sembrato di sentire altri passi Quello cosa stava guardando Dai Uno qua Uno qua Di attrasissima Oh, uno l'ho preso Solo uno Vabbè Meglio che nulla Ehi Eccolo Non ci voglio credere Quanto meno errate un positivo Se non muoio troppe cose ora Che cazzo No Non ci credo Dai Ho appena detto che errate un positivo E' lì va lo spia nemico Avvistato Guardatelo Che schifo Era lì che aspettava Mamma se non lo prendo Quanto mi fa girare il co**o In quell'uomo Porco Bingo 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 Basta XDDDDDDDDDDDD Grazie per aver visto il video fino alla fine Un saluto e un ringraziamento a Davide Viglio e Antonio Mascolo Che hanno commentato l'episodio precedente Grazie davvero per il supporto E grazie anche a chi si è semplicemente limitato a mettere un like Questo episodio ecco doveva essere un po' diverso Purtroppo la videocamera mi ha registrato soltanto la prima parte E non aveva senso mettere il gameplay Insomma vabbè avete capito Come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e un commento Condividete il video con i vostri amici Da Dani è tutto al prossimo video Bella ragazzi Ciao! 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 Sous-titres par Juanfrance